Sì, come si è fatto? Aspetta, no. Sì, vado a andare avanti. Ora adesso, lo spegniamo, lo spegniamo. Questo bambino che sta qua da... Vado! 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 Non me, non me che l'amante, non me, lo sanno. Lo spegniamo, c'è. Lo spegniamo, c'è. Lo spegniamo, c'è. Vado! 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 Sì, vado! Ve stating. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.